Ruspe allo stadio Marco Tomaselli per i lavori di sbancamento. Dopo la fase che ha riguardato la parte burocratica per individuare il luogo dove conferire il materiale di risulta, sono operativamente iniziati i lavori che in una settimana circa vedranno l'eliminazione dell'attuale manto erboso, dopodiché la ditta realizzerà il sottofondo su cui verrà posato il tanto atteso manto in erba sintetica. Già in una nostra precedente intervista l'assessore allo sport Fabio Caracausi aveva anticipato la durata dei lavori che sarebbe stata di quattro mesi durante i quali la ditta Anastasi di Villa Francatirena svolgerà lo sbancamento e ripristino del manto erboso dello stadio che tornerà ad essere utilizzato.